Il nostro ascoltatore dice giustamente, per esempio, che Masiello, tanto per dirne una, Andrea Masiello, spostato dalla destra al centro, noi con un solo infortunio, Ranocchia, abbiamo perso due elementi perché l'Andrea Masiello a destra non lo vediamo più. E fra l'altro dobbiamo appoggiarci su Belmonte, il quale non va crocifisso, perché fra l'altro pochi ricordano che non giocava da un anno e mezzo quando è entrato in squadra. Alvarez, sì, certe volte non fa molto, però come abbiamo detto poc'anzi è uno che tira la carretta da tanto. Rivas, col Milan non ha giocato bene, ma era la prima partita dopo... Catania non ha fatto male, secondo me. Mentre Catania ha dimostrato di stare entrando in condizioni. C'è una videolinea, pronto? Enzo, ciao Massimo D'Accorato. Ciao Massimo. Senti, volevo dirti questo, intanto sentivo oggi in televisione che pare che a me a mezzanotte di ieri sera è scaduto il termine per cui il governo poteva fare una proposta in mattarrise per quanto riguarda Punta Perotti. E che quindi adesso si attende l'esito della Corte di Strasburgo. Forse potrebbero esserci buone notizie anche per il Barri, perché se i mattarrise dovessero avere un alto risarcimento ci auguriamo che qualcosa venga speso in più per la squadra, mi auguro. Questo tu sai che noi proviamo a non infilarci mai in questioni che non riguardino il calcio, però indubbiamente è stato lo stesso Presidente Matarrese a lasciare intendere che se arriveranno soldi per il risarcimento forse il futuro del Bari sarà anche diverso. Mi pare anche oggettivamente giusto, la famiglia matarrese lo ha detto a chiare lettere, quando c'è stato il problema dalla vendita di Cassano il gruppo è riuscito a rimediare ad alcune situazioni di un momento particolarmente difficile. Ora, siccome questo aiuto è venuto da una società del gruppo, cioè la S Bari, è giusto anche che questa società debba essere anche risarcita nell'ambito del gruppo insieme ai suoi tifosi. E' curiosa di tutto questo la cosa, ma lo dico, guardate, poi non mi infilo più in discorsi di tipo politico, sono questioni di una certa delicatezza. Nel momento in cui da Strasburgo arriverà la notizia del risarcimento, chi pagherà i danni ai Matarrese? Lo Stato? No, non il Comune, pare di noi il Comune. Ho capito, quindi comunque, cioè noi, questa è la cosa, insomma, buffa di tutta la vicenda. Vabbè, però ripeto, soltanto una considerazione che, voglio dire, se ne potrebbero fare a decine, a centinaia, a migliaia, per come vanno le cose. Dicevi quindi, Massimo non c'è più. Va bene, comunque è chiaro il pensiero di Massimo, se arriveranno notizie positive, ovviamente sarà, insomma, per quello che si è capito, sarà un vantaggio per... Voglio sperare che così come una decina di giorni fa, prima della convocazione di Bonucci, Ventura disse Bonucci va in nazionale e poi si aspettano delle notizie, poi queste altre notizie siano buone. Il profeta Ventura. Queste notizie siano buone. Noi siamo addirittura ad arrivo per l'appuntamento odierno con il Biancherosso TV Sport. Devo dirvi una cosa importante, devo dirvi una cosa importante perché oggi, per la prima volta, parte, o meglio parte oggi, una nuova rubrica su Telebari perché ci seguiamo in diretta, perché alle 15.30 avremo, dopo Edile Emiliano, avremo anche Edile Aschitulli, il Presidente della provincia di Bari, che sarà il nostro studio ed è pronto ovviamente a rispondere alle vostre telefonate allo 080 501 9998. Quindi un appuntamento nuovo che si aggiunge al paninsesto già ricco e interessante, fatemelo dire, della nostra emittente. Vuoi dire qualcosa? Che è successo? No, niente, volevo dire che appunto, come da più parti si dice, non faccio a meno di dirlo perché bisogna dirlo, dobbiamo stare vicino alla squadra perché il momento non è determinante, ma è fondamentale. È fondamentale. Se si riescono a prendere questi benedetti tre punti domenica, credo che tutto si possa aggiustare. Grazie all'avvocato De Peppo, grazie anche a voi, a domani con il bianco e il rosso TV Sport e stasera ti fiamo a Bonucci, ciao. Grazie a tutti.